L'ennesimo incidente, ovvero l'investimento di un pedone su via Panella vicino la questura, arriva in città quando è molto acceso il dibattito sull'utilità o meno delle cosiddette zone 30, quelle in cui il comune, attraverso una specifica delibera, sta mettendo il limite di velocità a 30 km orari in prossimità degli attraversamenti pedonali o delle scuole in cinque arterie cittadine. Tra queste, appunto, c'è via Panella. L'incidente ha coinvolto una signora anziana che stava attraversando la strada ed è stata falciata da un'automobile. Ha battuto la testa violentemente a terra ed è stata trasportata al San Salvatore, anche se, fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze per lei. L'assessore Carla Mannetti, dopo quest'ennesimo episodio, ha deciso di accelerare il provvedimento e c'è stato un vertice in comune per rendere immediatamente esecutiva la delibera e decidere sistemi per incrementare la sicurezza sulle strade. Si farà subito, innanzitutto, un'opportuna segnaletica, sia a terra che orizzontale. Si sta ragionando anche su altre decisioni da prendere, perché su via Panella, come del resto sul biale della Croce Rossa, la questione è molto seria. I residenti, i commercianti chiedono maggiore sicurezza. Molti cittadini ritengono che la decisione del limite di velocità da sola non possa bastare. Altri denigrano questa scelta, pensando che è un modo per fare cassa, come affermato dal presidente dei motociclisti aquilani, Massimiliano Marifiamma. Tuttavia, la velocità è spesso il motivo degli incidenti stradali, anche su queste vie. I dati della Municipale parlano chiaro. In un anno, ad esempio, i vigili hanno elevato su via Panella circa 80 contravvenzioni, molte per uso del cellulare alla guida, ma anche per velocità troppo elevati in alcuni casi. I dati fanno registrare, purtroppo, una decina di investimenti di pedoni in un anno, e non sono pochi. Casi che hanno spinto appunto ad uno studio approfondito. La Mannetti è decisa e vuole installare anche degli attraversamenti a LED, questo almeno in via Panella e a viale della Croce Rossa. È un provvedimento che in modo concreto potrebbe sì incrementare la sicurezza. Su via Panella, ad esempio, la visuale è spesso scarsa e per questo la zona è teatro di molti investimenti. Anche l'associazione Mamme per l'Aquila è stata convocata dall'assessore. Da tempo, la presidente Valeria Baccante insiste sul montaggio di dissuasori per ridurre la velocità delle automobili. Grazie.